Buonasera, ben trovati. Tra poco il telegiornale si apre e in apertura avrà uno scontro durissimo che è scoppiato tra l'Italia e Malta su una delle questioni più delicate e sensibili di questi ultimi anni, la questione dei migranti. Perché Salvini, sulla scia dell'emergenza di una nave Aquarius che sta transitando in queste ore con a bordo 600 persone, tra l'altro oltre un centinaio sono minori non accompagnati che è l'altra faccia della enorme emergenza degli sbarchi di questi anni. Vi dicevo sulla scia dell'emergenza della nave Aquarius ha mandato un segnale durissimo nei confronti di Malta, ha detto o accettate questa nave oppure nei nostri porti la nave Aquarius non potrà attraccare. Lo avrebbe scritto in una lettera, uso il termine avrebbe perché in realtà da Malta è stato fatto filtrare che questa lettera non sarebbe ancora ufficialmente arrivata, ma il concetto è stato ribadito da Salvini anche su Twitter poco fa con il lancio di un hashtag chiudiamo i porti italiani. Il messaggio insomma è molto chiaro, molto diretto sulla questione degli sbarchi come aveva annunciato già ieri il ministro dell'interno, la linea del governo cambia, sarà completamente diversa. Questo naturalmente ha scatenato una serie di reazioni, la prima quella di Malta che vi dicevo si è chiamata fuori perché ha detto in realtà noi non abbiamo competenze per quanto riguarda l'accoglienza di questa nave, l'attracco di questa nave perché i soccorsi sono stati coordinati non da noi ma da Roma perché esiste questa regola sulla gestione dei migranti che prevede che si occupi della nave chi coordina i soccorsi. Ma insomma è evidente che è un muro contro muro politico quello con Malta ed è evidente come dicevano i latini dictum sapienti sat est cioè a buon intenditor poche parole che questo messaggio non è diretto soltanto a Malta ma è diretto a tutta l'Europa cioè Salvini vuole mandare un segnale chiaro che l'Italia non può gestire più da sola l'emergenza migranti e questa fuga in avanti va in questa direzione è del tutto evidente. Così come è evidente non possiamo far finta di nulla che siamo ancora in una giornata particolare perché oggi si vota, ci sono le urne aperte fino alle 23 di questa sera e infatti le opposizioni hanno criticato l'uscita di Salvini, la presa di posizione dura di Salvini nei confronti di questa vicenda perché l'hanno letta in chiave elettorale, hanno protestato per questo. Tra l'altro approfitto per ricordarvi che questa sera dopo non è l'arena di Giletti torneremo sull'elezione e seguiremo lo scrutinio per capire come sta andando. Quello che posso dirvi fino adesso è l'affluenza, l'affluenza che è più alta rispetto alle altre elezioni. L'ultimo dato è arrivato proprio adesso, lo leggo insieme a voi, l'E19 ha votato il 44.05% che rispetto al 2017 in crescita perché era il 40.03 si riferiva alle comunali del 2017 perché in realtà le elezioni in queste stesse città cinque anni fa il voto si svolgeva su due giorni quindi il dato non è comparabile. Più o meno si arriverà secondo le proiezioni a un'affluenza del 60% alla fine dello scrutinio. Dunque vi dicevo una giornata particolare perché servirà per testare i pesi delle due anime del governo, Lega e Movimento 5 Stelle e anche capire la tenuta del Partito Democratico in particolare in quelle che sono state definite le zone rosse che sono sempre state governate da sindaci di centro-sinistra. Dunque appuntamento dopo l'arena dei giletti per saperne di più. Ci occuperemo però nel tre giornale anche naturalmente delle questioni internazionali due su tutte. Una la coda polemica del G7 con la decisione di Trump di non firmare il documento finale che ha in qualche modo chiuso in malo modo il vertice canadese ma ci occuperemo anche invece di un altro vertice che si aprià martedì che è quello storico tra il presidente americano e Kim Jong-un e il leader nordcoreano. Si vedranno martedì ma i preparativi sono già in corso e soprattutto i due protagonisti si trovano già a Singapore. Ma ci sono anche altre notizie vi aspetto tra 30 secondi intanto per i titoli. Salvini alza la voce sui migranti, chiude i porti italiani all'Aquarius dell'ONGSOS Mediterranea con 629 persone a bordo. Il ministro dell'interno scrive a Malta e chiede che la nave attracchia la valletta. Non è di nostra competenza la risposta del governo maltese che dice no e dice di non aver ricevuto la lettera. Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani. Chiusa Salvini via Twitter. Quasi 7 milioni italiane alle urne per eleggere i sindaci di 761 comuni. In una giornata condizionata dalle polemiche per i tweet di Salvini e le risposte delle opposizioni. Affluenza in aumento rispetto alle amministrative del 2017. 44, poco oltre 44% alle 19. Seggi aperti fino alle 23. Dalle 24 e 15 al termine di Giletti. Risultati nel nostro speciale del Tg La7. Rientrato dal G7 in Canada il premier Conte è già a lavoro. In corso a Palassoviggi un vertice con i vice premier Di Maio e Salvini per trovare un accordo su deleghe e sottosegretari sul tavolo ai nodi del controllo di telecomunicazioni, editoria e servizi. Nella prima intervista da ministro Giovanni Tria traccia le linee economiche del governo all'insegna del realismo e della necessità di conquistare la fiducia dei mercati. L'uscita dall'euro non è in discussione, dici. I conti saranno tenuti in ordine con l'obiettivo di ridurre il rapporto debito-PIL. Face fiscale prima definire le coperture. Le pensioni staremo attenti alla sostenibilità del sistema. Di Maio intenzionato a chiedere però flessibilità maggiore in Europa. Con un tweet di 280 caratteri Trump ha distrutto la credibilità del G7. Il ministro degli esteri tedesco condanna la mossa del presidente USA che ha ritirato la firma dalla dichiarazione finale in polemica con il premier canadese Trudeau. La cooperazione internazionale non può essere dettata da pugni di rabbia e parole USA e getta. La durissima reazione del presidente francese Macron-Trudeau ha pugnalato gli Stati Uniti alle spalle. La replica della Casa Bianca. Buonasera, ben trovati. Allora qualche sospetto era già arrivato ieri quando abbiamo letto e sentito soprattutto le parole del ministro all'interno Salvini su Facebook in merito agli sbarchi di migranti che sono ricominciati per la verità già a febbraio scorso ma negli ultimi due giorni hanno avuto un'impennata complice naturalmente anche le migliori condizioni del tempo ma non solo. Questa emergenza che è diventata molto dura perché pensate che nel giro di due giorni ci sono un migliaio di persone partite dalla Libia oggi ha trovato il suo punto di caduta, di frattura nelle parole scritte di Salvini. Scritte dove? Prima in una lettera che avrebbe inviato a Malta chiedendo di accogliere la nave con i migranti che ancora nelle acque del Mediterraneo e poi ribadita su Twitter. Lo strappo si consuma con una lettera urgente di sollecito alle autorità maltesi. A scriverla il vicepremiere, il ministro dell'interno Matteo Salvini, chiede di far approdare alla valletta la nave ONG Aquarius che in queste ore ha raccolto più di 600 migranti nel canale di Sicilia. E' quello, spiega Salvini, il porto più sicuro per l'imbarcazione a cui per il momento è stata negata l'autorizzazione ad approdare in Italia. Se l'isola dovesse negare l'approdo, è scritto Roma non offrirà alcuna ipotesi alternativa. Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, scrive poco dopo in un tweet Salvini. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia, conclude il leader della Lega. Anche se fonti vicine al governo maltese negano di aver ancora ricevuto la missiva di Salvini, il portavoce Kurt Farrugia replica attraverso il quotidiano online Malta Today. Non abbiamo competenza sul caso, spiega Farrugia, il salvataggio dei migranti da parte di Aquarius è avvenuto nella zona libica di ricerca e soccorso ed è stato diretto dal centro di coordinamento della Guardia Costiera Italiana a Roma. Tradotto, non se ne parla nemmeno di far attraccare l'Aquarius sulla banchina di un porto maltese. Era già successo poche ore prima che le autorità di Lavalletta opponessero un netto rifiuto alla richiesta di approdo da parte dell'imbarcazione Sifux che con il mare in teppesta e 126 migranti a bordo aveva chiesto di entrare in porto perché in difficoltà. Da lì era scaturito il primo botta e risposta diplomatico tra Salvini e Malta accusata di non voler mai farsi carico di alcuna responsabilità in tema di migranti. Non tollererò più a lungo questa situazione aveva detto Salvini che nel giro di poche ore è passato alle vie di fatto facendo esplodere una questione finora mai chiarita. Le regole internazionali sui salvataggi in mare, Convenzione di Hamburgo del 79 e Convenzione SAR stabiliscono che il primo centro di coordinamento informato di una situazione di pericolo deve avvisare le autorità marittime territorialmente competenti. qualora l'altro paese non dovesse intervenire ha comunque l'obbligo di continuare a gestire il soccorso e indirizzare la nave nel porto sicuro più vicino. Ma la Convenzione di Hamburgo dice anche che è prerogativa del governo vietare l'accesso di una nave nei suoi porti. Da qui lo scontro diplomatico di queste ore. E non mancano le reazioni politiche. Basta buonismo, bene la fermezza di Salvini sui migranti. Parte del programma del centrodestra votato dalla maggioranza degli italiani lo scorso 4 marzo, dice Maria Stella Gelmini. In questa sfida assurda non so chi vincerà ma di certo a perdere sarà la civiltà, scrive invece su Twitter Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico. Molte le reazioni alla presa di posizione di Salvini che l'ha ribadita. Proprio mentre andava in onda il servizio è arrivata una nota a firma Salvini e dell'altro ministro delle infrastrutture Toninelli in cui si dice la nostra capitaneria di Porto ha scritto all'autorità della Valletta affinché per la prima volta dopo molto tempo Malta fosse messa di fronte alle sue responsabilità ed è nostra intenzione che risponda ufficialmente alla nostra richiesta di apertura dei suoi porti per il salvataggio delle centinaia di nafraghi presenti sulla nave che naturalmente sono in attesa di sapere se e dove possano attraccare. Come vi dicevo la situazione è estremamente complicata. Nave Aquarius si prepara una lunga notte di attesa e di incertezza oggetto di un braccio di ferro dalle conseguenze piene di incognite. Preoccupazioni riassunte nell'ultimo post pubblicato su Facebook. Ci dirigiamo verso nord nell'attesa di istruzioni definitive per quanto riguarda il porto di sbarco. Nostro unico obiettivo è lo sbarco in un porto sicuro delle persone che abbiamo soccorso in condizioni difficili. L'imbarcazione dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea con a bordo anche personali di medici senza frontiere è un mercantile che batte bandiera di Gibilterra. Unica nave in questo momento presente nel Mediterraneo per attività di salvataggio adesso si trova a largo e aspetta direttive. È a circa 40 miglia dall'isola di Malta ma comunque in acque internazionali. Ecco la posizione sulla mappa del sito Vessel Finder su cui appare scritto l'arrivo previsto nella data di domani nel porto di Messina ma non sarà così. A bordo 629 persone provenienti dal Nord Africa tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini, 7 donne incinte, profughi imbarcati dopo 6 diverse operazioni di soccorso avvenute nelle scorse ore a largo della Libia anche davanti alla Tunisia. A fare i salvataggi, navi mercantili che si trovavano sul posto e imbarcazioni della Guardia Costiera italiana che ha coordinato con la sua regia tutte le operazioni. I migranti erano a bordo di gommoni scalcagnati e rischiavano un naufragio. I soccorsi davanti alla Libia sono avvenuti in quella zona di mare definita SAR, area di soccorso e di ricerca, zona in cui si muove con compiti di pattugliamento la Guardia Costiera di Tripoli. Nei giorni scorsi sono riprese numerose le partenze dai porti della Libia. Oltre mille migranti, circa la metà, sono stati sbarcati ieri nei porti di Pozzallo, provincia di Ragusa e Reggio Calabria dopo un impasse di oltre tre giorni in mare nell'attesa del Via Libera da parte del Viminale, Via Libera che per Aquarius al momento è stato negato. Quelli di ieri sono stati i primi sbarchi della stagione del nuovo governo. I profughi hanno parlato di altre centinaia di migranti in attesa di partire, sia il comandante della Sea Fuchs, nave che è sbarcata a Pozzallo, che il capitano della Sea Watch 3, arrivata a Reggio Calabria, hanno raccontato alla polizia che Malta non ha consentito loro l'ingresso in porto. Ora, molte reazioni hanno, soprattutto da parte dell'opposizione, hanno commentato, ci sono state molte reazioni rispetto alle parole di Salvini di censura, nel senso che oggi non è una giornata particolare. Chiaro che questa presa di posizione è nata dall'emergenza, appunto, sulla scea dell'emergenza della nave Aquarius, ma oggi non è una giornata come tutte le altre, perché si vota, circa 7 milioni di italiani sono chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci. È arrivato proprio poco fa il dato che si riferisce all'affluenza, lo possiamo vedere insieme. Alle 19 di domenica di oggi ha votato il 44,05% dei votanti, alle 12 vedete era del 1982, ed è una percentuale in aumento rispetto alla precedente. Questo dato, peraltro, non tiene conto del risultato della Sicilia. Alle 19, al precedente elezioni omologhe, cioè quelle del 2017, la percentuale era stata del 40,03. Sono elezioni locali, amministrative, che però hanno un forte impatto nazionale. Bisognerà capire, e si verificherà dopo le 23, alla chiusura delle urne quali sono i rapporti di forza all'interno del governo, perché è il primo voto dopo la formazione dell'esecutivo Conte, e soprattutto anche capire quanto e se terrà il PD, che dopo l'elezione del 4 marzo rischia anche e soprattutto nelle zone cosiddette rosse. Il ministro dell'Interno fa lo spot elettorale sui migranti e contro Malta, dichiara il segretario del PD Martina, prendendosela con i tweet di Salvini che hanno squarciato la domenica elettorale, primo turno delle amministrative. Si vota fino alle 23, tra le polemiche e le grandi questioni nazionali, dai conti agli sbarchi in 761 comuni italiani, 6 milioni e 700 mila elettori, sufficienti a trasformare l'appuntamento in test politico. Per il neonato governo giallo-verde di Maio Salvini, che spera in un replay dei successi del 4 marzo, per i 5 stelle, significa soprattutto affermarsi al sud, in Sicilia, dove alle politiche fu cappotto. Per la Lega allargare i consensi a danno di Forza Italia, ovunque sia possibile. In ogni caso si tratta di una competizione interna alla maggioranza, forze alleate che si scontrano, prologo di una situazione che potrebbe ricrearsi in modo più lacerante nel più relevante match dell'Europea 2019. Per il PD l'obiettivo è confermare i sindaci uscenti il più possibile, sperando che la svolta destra di Di Maio restituisca voti sottratti alle politiche. E anche per Forza Italia questo passaggio elettorale conta e come timore della forza espansiva della Lega, speranza, in qualche successo che ridia smalto all'ipotesi alleanza di centrodestra. In gioco c'è la guida di città importanti, Catania, Messina, Ancona, Brescia, Vicenza, Siena, Pisa, Viterbo, Brindisi, Treviso, Avellino, con sfide e alleanze che variano di volta in volta e che vedono il centrodestra non sempre unito ai 5 stelle da soli, come sempre, il centrosinistra spesso diviso. La Sicilia è la regione con più capoluoghi al voto, ben 5. I 5 stelle vorrebbero capitalizzare il successo delle politiche e l'avversario diretto qui è proprio il centrodestra, già al governo della regione. Unito a Ragusa, dove il sindaco uscente è Grillino, e a Siracusa e Trapani, dove la Lega ha il suo candidato. A Catania e Messina invece la sfida del centrodestra è con i sindaci uscenti di centrosinistra, Enzo Bianco e il pacifista Corinti. A Vicenza, l'assenza di un candidato a 5 stelle, tira invece la volata alla Lega contro Forza Italia, per via di polemica interna al movimento, idem a Siena, che insieme a Pisa, Brescia, Treviso, Imperi e Ancona, forma la lista delle città rosse che idem non vorrebbero perdere. Traguardo simbolico potrebbe essere anche la conquista di Ivrea, la città di Gianroberto Casaleggio. Chissà ancora poche ore per capire vincitori, vinti e ripercussioni sul Governo Conte. Il Governo Conte che lavora oggi, nonostante sia domenica, è in corso un vertice a Palazzo Chigi tra Conte, appunto, Di Maio e Salvini, per nominare le persone che si occuperanno di tre argomenti fondamentali per quanto riguarda le deleghe, telecomunicazioni, editorie e servizi segreti. Naturalmente il vertice è ancora in corso e non se ne sa di più. Quello che però possiamo dirvi è che è stato ribadito nella giornata di oggi dal Ministro Di Maio che non verrà utilizzato il celeberrimo manuale Cencelli, che era quello che si usava nella Prima Repubblica per la divisione proporzionale rispetto ai partiti delle varie nomine da attuare. Almeno questo nelle parole. Vertice domenicale a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Reduce dal G7 del Canada, Giancarlo Giorgetti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La bomba è innescata da Salvini sull'immigrazione, tasto sensibile dentro il Movimento 5 Stelle, la partita della compatibilità dei conti pubblici con l'ambizioso programma di spese del contratto di governo e il bilancio del primo G7 di Conte non possono restare fuori dalla porta. Ma il primo tema all'ordine del giorno sono le deleghe su telecomunicazioni, editoria e servizi, caselle delicate della struttura del governo e sulle quali c'è conflitto tra i partner dell'Alleanza Giallo-Verde. Le telecomunicazioni sono nel mio Ministero, rivendica Di Maio, che vorrebbe tenere per sé la delega, mentre il Carroccio la vorrebbe affidare a un suo esponente anche per rassicurare Berlusconi e non rompere per sempre l'asse di centrodestra. Per l'editoria si è parlato di pentastellati Emilio Carelli o Gianluigi Paragone. Sui servizi l'ipotesi che la delega resti a Conte è preferibile per la Lega rispetto alla nomina del grillino Vito Crimi perché Salvini vuole garantirsi radici nei servizi che ritiene necessarie per le sue politiche muscolari sull'immigrazione. Il puzzle di viceministri e sottosegretari, 43 poltrone da riempire, va completato in settimana e tra le nomine più delicate ci sono quelle del sottogoverno dell'economia, dove si registra un braccio di ferro tra 5 stelle più decisi a tenere i conti a posto. Vogliamo bene all'Italia, lo faremo, promette Di Maio, cominceremo dai provvedimenti a costo zero. E la voglia di forzare la mano di Salvini di fare spesa in deficit, di usare l'arma della pistola fumante sul tavolo dell'Europa. Se entrassero in ruoli chiave al governo, passeranno euroscettici se non addirittura anti-euro, come i leghisti Borghi, Siria e Bagnai, sarebbe un segnale di rottura. Flessibilità in cambio di riforme sarebbe stata la promessa a Conte e al G7, dove a suo dire né i partner europei né il Fondo Monetario di Christine Lagarde avrebbero espresso preoccupazione per la tenuta dei conti italiani dopo la svolta politica del 4 marzo. Sul programma diacronico devo confrontarmi con i miei ministri economici, ha detto Conte interrogato sui primi provvedimenti del suo esecutivo, soddisfatto nel suo personale bilancio d'esordio internazionale per la sintonia con Donald Trump, che avrebbe salutato con entusiasmo la nascita del nuovo governo. Gli italiani hanno scelto la persona giusta che farà un ottimo lavoro e Grit Guy ha twittato il presidente americano, confermando l'invito di Conte alla Casa Bianca il prima possibile. Conte dunque è appena rientrato da questo vertice canadese del G7 che ha registrato uno strappo molto forte da parte del presidente americano. Ora diciamocelo chiaramente, quello che Trump rimprovera come surplus commerciale all'Unione Europea, che se più o meno 150 miliardi sono spiccioli rispetto all'economia americana, che è di trilioni di dollari. Quello che sembrerebbe dietro le parole di Trump è che lui voglia in qualche modo disarticolare la struttura europea che è dominata dalla Germania, che ha un'unica unità e l'unità è proprio quella commerciale. E lì Trump è andato a colpire. La foto di gruppo, le congratulazioni per lo splendido paesaggio canadese, i ringraziamenti per il vertice e le ottime relazioni con i sei leader che hanno compreso la politica dei dazzi. Donald Trump sembrava contento di come erano andate le cose a Charlois. Dopo poco più di due ore però, sempre via Twitter, ha ribaltato il tavolo, si è ritirato dal documento finale che solo grandi sforzi diplomatici avevano portato a termine con la firma di tutti. A farlo infuriare sono state le parole del premier canadese Trudeau che in conferenza stampa, presentando il testo, ha aggiunto che ci sarebbero state delle ritorrussioni ai dazzi degli Stati Uniti. Trudeau è stato mite e ragionevole durante i nostri incontri ma appena sono partito è stato disonesto e debole. Ha detto alla stampa che le nostre tariffe commerciali sono un insulto per il Canada, ecco perché non appoggio più il documento finale. Trump ha fatto sapere il suo entourage, non può mostrarsi debole alla vigilia dell'incontro che può fare la storia con Kim Jong-un. Ma gli altri leader non l'hanno presa bene, sui social sono apparse le foto scattate dai vari staff che mostrano quale tensione ci sia stata a Charlevoix. Nonostante i punti di vista diversi in tutti gli scatti, Trump appare in minoranza, circondato da Merkel, Macron, Abe, Conte, May, non sembra esserci un'atmosfera serena. Il presidente ha distrutto gran parte della fiducia tra Stati Uniti ed Europa, ha detto il ministro degli esteri tedesco Maas. Ancora più duro Macron, la cooperazione internazionale non può essere dettata dalla rabbia, abbiamo preso impegni, dobbiamo essere seri. E mentre lo staff della Casa Bianca accusava Trudeau di aver pugnalato alle spalle gli Stati Uniti, parole distensive sono arrivate via Twitter dal senatore repubblicano John McCain, che a Donald Trump non ha mai fatto sconti. Ai nostri alleati, la maggioranza degli americani resta a favore del libero commercio e sostiene le alleanze basate su valori condivisi da 70 anni. Gli americani sono con voi anche se il presidente non lo è. Ma Trump ha in mente solo Singapore e punta a riavvicinarsi a Putin che in quelle ore era a Pechino per il vertice dei paesi asiatici, da dove sono arrivate le parole di Xi Jinping. Le regole del commercio internazionale devono essere rispettate senza seguire miopi politiche egoistiche dettate da una mentalità da guerra fredda. Allora vediamo questo vertice storico che si aprirà a martedì. Due protagonisti sono già a Singapore, Kim Jong-un e il presidente americano Trump. Saranno dei negoziati sicuramente molto lunghi anche perché questo garantirà la sopravvivenza del regime nordcoreano che cerca, grazie a questo summit, di mantenere e di aprire la propria economia per sopravvivere soprattutto in chiave sudcoreana. Sono già a Singapore i protagonisti dello storico summit, prima annunciato, poi cancellato e infine rimesso in agenda martedì alle 9, le 3 del mattino in Italia. Qualche ora fa è arrivato anche Donald Trump che durante le 17 ore di volo ha voluto mettere i puntini sulle I con i colleghi del G7 e anche e soprattutto per non mostrare debolezza poche ore dal suo incontro con Kim, che invece è atterrato nella città-stato del sud-est asiatico qualche ora prima, ha viaggiato su un Boeing privato dell'Air China, gentile concessione di Xi Jinping, suo potente alleato e sponsor. I due leader alloggeranno a poche centinaia di metri di distanza il nordcoreano Al-Sher Regis in una suite da 6.000 euro a notte, Trump nell'ancor più lussuoso Shangri-La. Siamo nel quartiere delle ambasciate che per almeno tre giorni sarà la zona più controllata del pianeta con migliaia di agenti strada assieme alle unità d'elite dei Gurka nepalesi. Il vertice costerà 12 milioni di euro, almeno la metà per la sicurezza, tutto a carico del premier di Singapore, Lin Sien Loong, che Kim Jong-un ha voluto subito incontrare. Il mondo ci guarda, ha detto il dittatore nordcoreano, sottolineando la solennità del momento e augurandosi il successo delle vertice previsto nell'isolotto di Sentosa. La sua delegazione prevede Kim Jong-chol, già visto la Casa Bianca pochi giorni fa, ma soprattutto la sorella Kim Jong-jong, già protagonista del disgelo con Seoul durante le Olimpiadi Invernali. Mentre con Trump ci saranno il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Gli analisti non si aspettano risultati concreti semmai l'avvio di un lungo percorso. Anche se nulla va dato per scontato, Trump e Kim sono imprevedibili e molto dipenderà dalla chimica che si formerà tra loro. D'altro canto i nodi da sciogliere sono molti. Gli Stati Uniti vogliono la completa denuclearizzazione della penisola coreana. Kim è disposto a concederla, ma gradualmente, perché l'arsenale atomico è l'unico deterrente di fronte a un possibile attacco nemico. Ma per restare il padrone assoluto del Paese ha anche bisogno che le sanzioni vengano allentate per rilanciare l'agonizzante economia di Pyongyang, la vera e inconfessabile urgenza che il regime deve affrontare. E c'è invece un'urgenza confessabilissima che il nostro governo deve affrontare, che verrà in qualche modo sciolta il prossimo martedì, di cui vi dobbiamo parlare, perché ci sarà una riunione martedì mattina, un incontro a Palazzo Chigi con i ministri economici, primo fra tutti Giovanni Tria e Luigi Di Maio. Sul tavolo ci sarà il passaggio delicato della coalizione giallo-verde, cioè quella risoluzione di maggioranza sul documento di economia e finanza, il famigerato DEF. Ma in questa attesa è arrivata una intervista di quello che sembrava Silente, che invece Silente non è stato, del ministro Tria. Non si era nemmeno finito di dire che Tria, neoministro dell'economia, non parla, non spiega, non dice, lasciando ad altri materia che per titolarità dei ministeri riguardano. Non certo loro. Detto fatto, ha parlato. Tria ha rotto il silenzio e smontato, obiettivamente, pezzo per pezzo, buona parte delle suggestioni che su Euro, Fisca e Previdenza hanno fatto notizia per settimane, quando lui, tecnico, aveva lasciato spazio alla politica. Il ministro Tria ha rappresentato la linea economica di questo governo, chiederemo flessibilità all'Europa, dichiara però il vicepremier Di Maio a mezz'ora su Rai 3. Resta il fatto che fin qui il silenzio, oggi chiarito, pare ci sia costato qualche miliardo, tra perdita di capitalizzazione in borsa e spread, ma vabbè, poi magari il fieno torna in cascina. Nei fatti al Corriere della Sera, oggi il 69enne, professore gode di due pagine intere di spiegazioni e già dal titolo si capisce che la sua idea, certo, non sarà rigorista, ma sicuramente di uno che fa il professore. C'è scritto, meno deficit e più investimenti, primo punto che in economia ha un valore fondamentale. Poi Tria si concede anche alla forma, ai temi che fanno slogan e male a volte. Si arriva dritti dritti all'Euro, uscirne o meno. Netta la risposta alla posizione del Governo è unanime, non è in discussione alcun proposito di uscire dall'Euro. Fine della trasmissione. Sulla pace fiscale, altro tema, dichiara che dobbiamo fare i conti e simulare il possibile, avere le coperture. Aggiunge che i fondamentali del nostro Paese sono a posto, ma i mercati hanno reagito ai normali interrogativi che accompagnano una transazione politica. Ecco qui, non c'è certo la parola complotto, la spiegazione è puramente tecnica, chiara, molto chiara, utile in vista dell'esame sul documento di economia e finanza che slitta però martedì 19 giugno. Non è un contratto, non è un programma, ma un manifesto preciso senza derivo niriche su quanto è possibile fare in economia per il Paese. Per, come dice Tria, meritarsi la fiducia di chi investe. Fiducia sulla stabilità finanziaria, fiducia come presupposto di ogni strategia. Sul debito pubblico Tria rassicura che si rispetterà l'impegno a Berlino, manda a dire che in Europa non si accettano minacce, ma si discute. Così parlò finalmente il neoministro dell'economia Tria. Vediamo se i mercati da domattina lo ascoltano. E tra poco dopo di noi parlerà invece Massimo Giletti, non è l'arena. Massimo ti vedo già in collegamento, buonasera. Uno dei temi di questa puntata sarà il business dei migranti. Mai tema fu più azzeccato, visto il bailame che è successo oggi. Hai avuto fiuto, Massimo? Ma sai, poi ovviamente noi ci vediamo l'attualità, quindi credo che dirotteremo la prima parte anche con Giorgia Meloni che sta per arrivare, soprattutto su quello che sono le ultime dichiarazioni Salvini. Chiudere i porti italiani, avremo ospiti che la pensano in modo diverso, ci confronteremo su questo. E poi sono contento che arriverà anche Paolo Bonolis, che è un piccolo grande evento per la Sette, e viene e parlerà di stretta attualità. Non voglio raccontare la televisione e altre cose. Con lui voglio raccontare quello che pensa sull'immigrazione e su tante altre cose. Quindi ci vediamo con te anche perché avremo un collegamento in diretta, perché so che questa sera faremo uno speciale, quindi sulle elezioni negli oltre 700 comuni italiani. Ci sentiamo quindi più tardi. Ciao. Bene, ci vediamo dopo. Grazie Massimo, buon lavoro. Noi ci rivediamo invece tra pochissimo dopo la pocità per gli aggiornamenti. Ecco, ci stavo vedendo, ci sono ancora reazioni alla decisione di Salvini di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius, ma non solo, che sta accendendo il dibattito politico. Anche di questo si occuperà tra poco, subito dopo di noi, Massimo Giletti con Non è l'Arena, che ha ospiti questa sera, vi ricordo, Paolo Bonolis, Giorgia Meloni, Claudio Borghi, Lucia Borgonzoni, Paolo Cento, Maurizio Gasparri e Alessia Rotta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, dopo Non è l'Arena, lo speciale, se avete voglia, sulle elezioni e lo spoglio elettorali di queste comunali 2018. Grazie per l'attenzione e buona serata.